L'istituto Spallanzani conferma la validità dei test rapidi adottati dalla regione, Zaia risultati in tre minuti. Il maltempo ha colpito violentemente il Veneto, interessando anche Vicenza, Rucco, ora lavoreremo sui risarcimenti. Due ville, giallo per la morte di un uomo trovato riverso in una roggia, probabile un malore. Vicenza a breve nelle scuole superiori, nuovi banchi e sedi e investimento di 356 mila euro. Il successo dei campionati italiani di ciclismo ha riportato l'attenzione sul territorio, le gare una vetrina per l'economia. Buonasera dalla redazione di Tg Vicenza, lo sguardo è un'apertura al bollettino pomeridiano dell'azienda Zero con altri 63 casi rispetto a stamattina. Contiamo e sommiamo gli 83 di questa mattina, quindi rispetto a ieri pomeriggio sono 146 casi positivi in più, che porta il totale degli attualmente positivi a 2.081. Dobbiamo registrare anche 6 nuovi ricoveri in area non critica e uno in terapia intensiva per un totale rispettivamente di 49,5. E purtroppo oggi registriamo anche una variazione dei decessi, sono altre due le morti da coronavirus che porta il totale a 2.107 vittime. Come dicevamo nei titoli, l'Istituto Spallanzani ha confermato la validità dei test rapidi in uso in Veneto, la notizia è stata subito rilanciata oggi dal Presidente della Regione. Il Laboratorio di Virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma ha validato i test rapidi antigenici per il Covid-19 che si stanno effettuando negli ospedali nei cosiddetti drive-in del Veneto. La notizia, confermata in una nota congiunta a firma dei responsabili dei laboratori dello Spallanzani e dell'ospedale di Treviso, viene rilanciata dal Presidente Luca Zaia. Spallanzani, guardate, noi siamo stati i primi a livello nazionale, se non anche europeo, a parlare dei tamponi rapidi. Il dottor Rigoli di Treviso ha iniziato a sperimentare i tamponi coreani. Capite che cambia il mondo dello screening. Cioè il tampone rapido è quello che ci permette di fare il test agli aeroporti in tempo reale. Una validazione importante perché se il tampone rapido viene confermato, come è stato confermato, efficace, noi riusciamo ad essere molto più performanti. La forza di questo strumento è appunto la rapidità nel fornire una prima risposta che in questa fase dell'emergenza diventa indispensabile. Che in tre minuti, mi rovino sette minuti, ma in tre minuti già si vede la stringa. Sette minuti proprio per dire buttalo via che sei negativo o sei positivo. Ecco, in tre, sette minuti, dieci minuti hai il risultato in strada. Il tampone rapido funziona bene però se viene fatto e validato immediatamente. La letteratura scientifica dice a livello internazionale che il tampone rapido funziona, ci insegna anche un'altra cosa, che il tampone rapido funziona bene se viene fatto sul fresco. Cioè bisogna fare il tampone, non metterselo in valigetta e dire beh dopo li faccio valido in ufficio, bisogna farli al momento. Cioè mettere il reattivo e farli subito sul fresco. Ora premo un'ampia pagina dedicata al maltempo. La Regione ha già formalizzato lo stato di crisi per i comuni colpiti dall'ondata di sabato e soprattutto di ieri. Vediamo quali sono i comuni colpiti nel Vicentino. Ci sono anche otto comuni vicentini nella lista delle amministrazioni per cui la Regione Veneto ha formalizzato lo stato di crisi a seguito del maltempo di sabato 22, domenica 23 agosto. Si tratta di Vicenza, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Camisano Vicentino, Dueville, Caldogno, Monticello Conteotto, Altavilla Vicentina. A questi se ne aggiungono tre bellunesi, sei veronesi e 28 padovani, ma l'elenco potrà essere successivamente ampliato man mano che verranno formalizzate alla Regione le segnalazioni dei danni subiti da altri comuni. Il provvedimento si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze della perturbazione con centinaia di alberi abbattuti, danni alle abitazioni e allagamenti diffusi. L'attuazione è delegata alla Protezione Civile Regionale e alla Polizia Locale. Vedremo allora se a questi otto comuni vicentini se ne aggiungeranno altri. Intanto proprio nel capoluogo a Vicenza è iniziata la conta dei danni. Ho sentito il Presidente, il Capo della Protezione Civile, il Nazionale, il Dottor Borrelli che ha già informato il Presidente del Consiglio, ho sentito anche altri esponenti, il Presidente Casellati, il Presidente del Senato, i miei colleghi Presidenti, molti altri ancora e direi che si va nella direzione che bisogna portare a casa il risultato che è quello del ristoro dei danni. I cittadini un appello? Cosa si ringrazia? I cittadini sono eccezionali, stanno spalando, stanno pulendo, qui non si cala mai la tensione. Adesso bisogna dare risorse per pagare i danni. Così il Presidente Zaia durante il suo praluogo a Verona, la città più colpita dalla violenza del maltempo. Ma anche a Vicenza città si è fatta la conta dei danni. Dal pomeriggio di ieri fino alle 3 di questa notte, 14 volontari della Protezione Civile hanno operato con i vigili del fuoco e la Polizia Locale per sgomberare soprattutto le strade dove alberi e grossi rami colpiti dal vento hanno invaso le carreggiate. Soprattutto l'area di strada Postumia dove sono caduti i 4 grossi alberi vicini. Temporalmente chiusi Parco Querini e Villa Tacchi. Danni in tutta la provincia di Vicenza per quanto riguarda i fatti accaduti ieri con questa bomba d'acqua che si è abbattuta sul Veneto, in particolare su Verona, Vicenza e Padova. Danni comunque importanti in città per i quali siamo stati dichiarati anche in stato di crisi grazie alla firma del decreto da parte del Presidente Zaia. Lavoreremo ora per quanto riguarda sulla parte dei risarcimento e dei ristori dei danni e poi anche per il ripristino. Per fare prevenzione contro il maltempo servono risorse. Allora i sindaci veneti fanno un appello al governo. L'ha fatto il Presidente dell'Anci Veneto, Sindaco di Treviso Mario Conte. Noi portiamo la nostra solidarietà ma portiamo anche la nostra disponibilità a quei territori per poter aiutare in ogni modo, in ogni forma i nostri colleghi e le comunità dei comuni colpiti da questo maltempo. L'opera di prevenzione e di sistemazione idraulica è sempre più necessaria e fondamentale proprio per tutelare i nostri territori. È fondamentale però che i sindaci abbiano a disposizione le risorse perché se no noi possiamo annunciare, parlare e progettare però poi se non abbiamo le risorse concretamente per poter mettere in campo opere pubbliche a tutela dei nostri territori rimangono solo chiacchiere e le immagini che poi purtroppo sempre più spesso siamo costretti a vedere sono queste dei nostri territori messi in ginocchio dal maltempo. La coperta è sempre più corta e i sindaci stanno facendo i salti mortali per riuscire a garantire comunque i servizi ai cittadini e servizi di ottimo livello. Però i miracoli non è che possiamo continuare a farli tutti i giorni e su tutti i temi. Stavolta il maltempo ha colpito le province di Verona, Vicenza e Padova. Come abbiamo detto, contro questi danni la parola d'ordine è prevenzione. Lo ha detto ai nostri microfoni stamattina la Presidente regionale dell'Ordine dei Geologi, Tatiana Bartolomei. Non è solo questione di cementificazione o urbanizzazione, ma vanno considerati tutti gli aspetti di pianificazione del territorio. Secondo l'Ordine dei Geologi del Veneto i danni del maltempo si devono affrontare ed evitare grazie ad una seria prevenzione. Noi puntiamo molto sull'attenzione alla prevenzione, perché ovviamente vediamo che questi eventi così estremi non possono più essere considerati come delle eccezioni, ma il clima, la meteorologia cambia, sta cambiando in questo verso. Di conseguenza dobbiamo prepararci, avremmo già dovuto prepararci per essere pronti, per cercare di limitare. Una questione di sicurezza è una questione anche economica, sia per il settore pubblico che per il settore privato. Secondo Bartolomei la consulenza geologica nei progetti di opere pubbliche e private, pur prevista dalla legge, spesso non è tenuta in considerazione e anche la legge regionale sul consumo di suolo va costantemente aggiornata. È evidente che tutto quello che ha a che vedere sia con la parte urbanistica che con l'impermeabilizzazione dei suoli, sia con la stabilità o le colate o i fenomeni di dissesto, sono una conseguenza di azioni e progettazione che potrebbero essere non state effettuate valutando tutte le accortezze. Occorre uno studio puntuale del territorio dal punto di vista geologico, idrogeologico e idraulico, anche nelle zone già urbanizzate. È evidente che in un abitato in cui è già costruito è più difficile porre il rimedio, però le misure ci sono e vanno attentamente adottate. Alla fine la prevenzione idrogeologica ben fatta risulta vantaggiosa anche economicamente. È molto più costoso dover intervenire a fatti avvenuti, a eventi avvenuti, piuttosto che fare delle valutazioni o aggiornare i piani territoriali e quindi comportarsi di conseguenza in fase preventiva. Chiediamo quest'ampia pagina e parliamo della scuola, ci sono delle importanti novità nel Vicentino e parliamo di banchi e sedie. Imminente la riapertura delle scuole. Negli istituti superiori della provincia di Vicenza sono in arrivo nuovi arredi, banchi e sedie per 356 mila euro. I finanziamenti verranno prelevati dal contributo che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato alla nostra provincia. Una rimodulazione necessaria degli spazi per garantire il distanziamento imposto dalle norme anti-Covid. Sarà una ditta di Rovigo, l'unica a rispondere tra le cinque aziende contattate a fornire gli oltre 3.000 banchi e le quasi 4.000 nuove sedie. La consegna degli arredi inizierà il 9 settembre prossimo. Proseguono febblimenti i lavori anche nei cantieri già avviati. Tra questi ricordiamo l'Istituto Piovene e il laboratorio di chimica che verrà riconvertito in una nuova aula. Anche il liceo quadri verrà realizzata in una nuova aula e in più un'aula virtuale per la didattica a distanza composta da postazioni isolate e separate per nove docenti. A Montecchio Maggiore due interventi all'Istituto Ceccato, uno di ripristo di una nuova aula, l'altro di abbattimento di tramezzature e divisorie. Siamo alla cronaca. Si indaga dopo il ritrovamento del corpo di un uomo in una roggia nelle campagne di Dueville. Vediamo. È giallo sul corpo di un uomo ritrovato sabato sera nelle campagne di Povolaro, frazione di Dueville. Il corpo, che adesso ha un nome, Luigi Zaltron, di 63 anni, abitante solitario delle zone di Mitrofe, è stato trovato da un passante che era andato a trovare il refrigerio con il proprio cane. Il corpo, già privo di vita, si trovava riverso in una roggia, precisamente in via Bellini. Con tutta probabilità il decesso è avvenuto già il giorno precedente. Non è strano che nessuno se ne sia accorto, nemmeno fra i residenti del gruppo di case non lontano, visto che non si tratta di una zona così frequentata. Non facile la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti che hanno transennato l'area. Parrebbe, con tutta probabilità, trattarsi di un malore, oppure ancora il fatto che l'uomo sia caduto accidentalmente sulla roggia senza riuscire tuttavia a risalire. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Dueville, dal Nucleo Investigativo Provinciale di Vicenza, dal Radiomobile di Tiene. Sarà anche l'autopsia disposta dalla Procura di Vicenza a far luce sul decesso. Due ragazzi sono stati aggrediti nella notte in un bar del fatto si stanno occupando i carabinieri. Arzignano. Due ragazzi di 20 anni sono stati presi a calci e a pugni per poi essere rapinati. È accaduto verso le due di notte in Piazza delle Erbe a Vicenza. Hanno immediatamente alertato i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. I ragazzi hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di coetanei sconosciuti. Hanno agito rapidamente, strattonando i malcapitati e sottraendo loro due bracciali, uno in oro del valore di 300 euro, e sono fuggiti a piedi. Voleva ottenere in maniera irregolare uno sconto sull'affitto, ma è stato scoperto. Arzignano. Un uomo di 44 anni, indiano, ma residente in città, è stato denunciato dall'autorità giudiziaria per aver reso dichiarazioni mendaci su atto pubblico. Per ottenere uno sconto sull'affitto aveva infatti fornito una falsa autocertificazione. Aveva aperto un procedimento di richiesta di donità alloggio al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, dichiarando di convivere con la famiglia. La polizia locale, invece, a seguito di un controllo, ha constatato che moglie e tre figli vivono in India. Ora un altro malvivente maldestro che pensava di averla fatta franca, invece la sua impresa non è finita come lui sperava. Un uomo di 51 anni è stato denunciato per aver commesso il furto al bar di Piazza Biade venerdì mattina. A lui sono arrivati gli agenzi di polizia locale che l'avevano riconosciuto in Campo Marzio. L'uomo aveva approfittato di un momento di assenza di clienti e personale per aprire la cassa, rubarne le banconote contenute e fuggire rapidamente. Non aveva però fatto i conti con il sistema di videosorveglianza che lo aveva immortalato. Non appena il titolare ha denunciato il fatto, sono scattate le indagini. L'uomo, schiacciato dall'evidenza delle immagini, avrebbe infine ammesso il furto agli agenti. Siamo allo sport, è stato un grande successo il campionato italiano di ciclismo che ha toccato buona parte del Vicentino, ma si guarda già il futuro con qualche idea. Il campionato italiano di ciclismo, andato in archivio domenica, ha riportato l'attenzione del pubblico nazionale su Bassano e sulla Pedemontana. Le gare sono diventate una vetrina di grande importanza per un territorio in cui il ciclismo è una colonna portante per gli sportivi, per l'economia e per l'indotto. È andato tutto bene, la gente si è comportata benissimo lungo il tracciato del percorso, l'organizzazione è stata perfetta, quindi sono stati tre giorni di grande sport ma che hanno permesso il nostro territorio di essere valorizzato, il tutto con la massima sicurezza. L'appetito, come si suol dire, viene mangiando e quindi dopo il Giro d'Italia Under 23 e la Corsa in Rosa, che approderanno del Bassanese da qui a breve, c'è già la volontà di portare ogni anno un grande evento a Bassano. L'idea come Regione del Veneto nei prossimi anni è quella di puntare sempre di più su questo tipo di eventi, per valorizzare un po' tutto il Veneto, quindi organizzando delle gare nelle varie parti del nostro territorio, ma in particolar modo sulla zona della Piedemontana Veneta e Vicentina, visto che la Rosina piuttosto che la Tisa stanno diventando veramente, possiamo definirgli degli stadi naturali, degli stadi all'aria aperta, di creare delle classiche, quindi di portare delle gare fisse qui ogni anno, perché abbiamo visto che il territorio ci crede, l'industria, che è l'industria legata alla bicicletta su questo, sta investendo moltissimo e sta crescendo negli ultimi anni e quindi può diventare veramente un volano economico fondamentale e molto importante per tutto il nostro territorio. Dopo i nostri telegiornali, l'appuntamento consueto con Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano. Questa sera si parla di futsal calcio a 5 e con il presidente del Petrarca, Paolo Morlino. In serata Focus alle 21.15 in diretta, tra gli ospiti Paolo Benveniù, Gian Antonio Dare, Pierangelo Del Zotto, Gio Formaggio, Leonardo Padrin e Andrea Zanoni. Dopo la sigla, come sempre, il Meteo. Grazie a voi tutti per l'attenzione. Buona serata, a domani. Benvenuti al Meteo. Dopo il forte maltempo dello scorso weekend con il violento nubifragio che ha colpito in particolare la provincia di Verona, martedì 25 agosto tornerà il sole. Nel dettaglio sul Veneto pressione in nuovo aumento, bel tempo con ampio soleggiamento dappertutto, sarà asciutto e stabile con cielo sereno o al massimo velato. Per questa giornata non sono previste precipitazioni. Clima gradevole, con temperature minime fino a 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Vediamo ora che tempo farà a Vicenza, in città ma anche in provincia. Lo scenario non cambia, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Sulla nostra città il sole sarà protagonista e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Temperature massime infine sui 30 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Rete Veneta.